Benvenuti a un nuovo video, io sono Gabby Gaming e questo è un nuovo video qui su fortret raga oggi sono qui su fortret perchè ti fai vedere delle cose speciali, questa skin della season 6 che ho acquistato ieri sempre centro è questa, Bombarolo Lucente, raga se mi sentite male perchè ho le cuffie un pochino rotte, a tanto rotte quindi io devo cominciare sul video e partiamo, fare due partite, ho avuto una challenge in cui farò sfidare le nostre due nuove concorrenti sempre centro contro Bombarolo Lucente, stagione 1 contro stagione 6 quindi vediamo qual è la stagione migliore diciamo quindi si comincia subito con sempre centro secondo la partita, raga scusate non porto un video da tanto quindi io direi di partire subito con il video, ci buttiamo e a Pantano partite in tanto così subito perchè è la mia città preferita e vediamo quale skin riesce a fare pro kill quindi arriviamo subito a Pantano, speriamo che la corso del bus sia passi pure da Pantano perchè se non c'è da fare un botto di strada e non mi fermo pure a Pantano mi fermo sempre a città prima quindi DAIE DAIE SUPERCARICHI PORCA TRANA SUPERCARICHI la corso del bus da Pantano 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 quale sta finita agenzia fattoria frenetica e foschi perfetto come non ci interessa andiamo subito a Pantano un po' così subito raga scusate se vedete diciamo la Tana la Tana la Tana è un nitro corcelino e vogliamo con il bus da Pantano perchè non ci sono ancora andato o per niente il bus da Pantano qualche gente c'è qualcuno c'è che raga ehm io vado qua mi fermo qua raga ho fatto un poco di Valentino a Rossi ando per lo sborone ok mi fermo subito qua perchè sembra che qua oh mettici la pompa bianca qua c'è Pantano il bus 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 ma dai raga un giorno mi porterò un video con un amico mio è un player anche lui quindi vedo se domani o dopo domani mi porterò un video raga che veramente ne ho fatti tanti di video ieri che verranno tutti caricati la prossima settimana già da lunedì verranno caricati ah raga domenica ovvero domani non ci saranno video che mi sono così perchè la domenica non porto il video sul canale qui vado a forza 50 siamo a 60 colpi au au fa la maestrutoria faccio una cassa e lo sento 0 kg per sempre centro e faccio tutti questi barili subito ok perfetto dovremmo scendere sparare raga questa non è una cosa buona però io ci vado ma raga è troppo lontano io farei una cosa del genere eh la madonna che che ti è successo ma ti vedete si stanno sparando con me tanti macacchi direi vabbè 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 la gente nonchia raga quest'auto ebbe la gente ecco vabbè 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 ma che cazzo fa? me è frettino ma raga questo lo aggava di potanto raga eh si eh poi io so se m'aveva aveva lo scarro che questo ci fa comodo faccio così e cacca questa merda che è perfetto di mettere ma c'è via su una mitraglietta posta questo strozzo come la gava lo stesso quindi è molto piccolo correttino dalla nascita c'è una kill però da per sempre centro dai minchia raga sto vagabondando per il pantano c'è nessuno raga secondo me quello a posto di lagare secondo me era un botto un botto potente qua guardi se c'è qualcuno ah ma siamo nello stesso posto di prima raga pantano un labirinto un po' di mazzi un po' di mazzi ST ragazzi ok perfetto allora se c'è qualcuno faccio il segno qua c'è la cassa grande e la digi sono tutti la cassa da qua non c'è nessuno io vado a giocare a minecraft c'è a tre ore che non c'è nessuno cassa la cassa sopra la cassa ok ma sei la sopra chi ci ha portato la sopra con il gioco ma cosa c'è le c4 non si sa mai qua c'è il oh qua c'è l'altro ragazzi sbaglio c'è qualcosa ecco se va bene il mio cazzo è ah no ragazzi ci potrò non lascio vai con le botte ragazzi sebbene di vedere un tasto con pompa vero un po' un po' quello no ragazzi io invece faccio una cosa torno al posto di prima lascio le c4 e mi vado a prendere lo c4 stai calmo c5 non mi ricordo dove ero ok mi sembra che lo scendono che cosa ecco ecco 2 c5 così si sembra in emergenza mi faccio tipo subito un medikit e lo scudo e direi di andare subito in zona che è già manco un minuto e la setta c4 tanti bomb ora c'è qualcuno qua raga raga forse la seconda che là viva raga forse la seconda che là e crepa male bastardo io lascio la raga raga io ho paure di parolacce perchè ma l'emotico raga ma chi c'è? ahhh figlio di tua mamma tu tu prostituta raga questo va e ce lo spasso raga no la mia faccio molto oh la prostituta ma da cazzo bastardo dove sei? buona raga io mi faccio il medico si minchia raga non ci credo oh ma bastardo dove sei? vieni ma che minchia fai? minchia ma non raga dove vai ma raga porca puttana perchè non ho messo un muro va bene ok prima partita è andata così raga si è fottuto si è fottuto lo scar buono fuori un cazzo allora per la per sempre a centro poi kill ora tocca bombarolo lucente vero? bombarolo lucente andiamo sempre a pantano vediamo quanto è che riescerà a fare la nostra carissima bombarolo lucente perfetto perfetto tutto bene un messaggio ok ma ecco mmm allora raga lo stai non so che è finissimo papà mmm mmm stiamoci bombarolo lucente raga copertura va bene la stessa che raga questo è l'ultimo fai l'ultimo e ci sarà ora bombarolo lucente che combatterà vediamo quanti kill riuscirà a fare se riuscirà a superare o a fare niente o fare pure 0 kg raga in quel caso la vittoria va sempre centro ahhh che caldo raga se sentite caldo in questi giorni mettete like e scrivete un commento no ah no nei commenti scrivete hashtag io sento caldo ma dovete dire così io sento caldo oppure il secondo asset dovete dire io sto soffrendo come un maiale che sta cuocendo al forno dovete dire così a come iscrivetevi al canale lasciate like e iscrivetevi commenti a fare scherzi e si parte raga io ho provato ad andare a moli perchè sempre pantano mmmm non ci stia andando nessuno a meno credo che tutti vanno alla grotta prendersi la minigun le cose vediamo vediamo c'è gente no raga forse siamo soli forse è meglio per noi così abbiamo molto più tempo da lutare forci mazza percare armi in abbondanza ninamon in abbondanza e far superare le kill di sempre centro intanto qua abbiamo un tattico bianco se parevo che la stia non era con noi oh mio e attento che se no c'è di giù è testato allora faccio una bella cassa e me ne cassa piacciono intanto ho intrati sulla mitraglietta un R verde buono 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 peccato che poco fa nella partita precedente non ci sono andato con la mitraglietta pare che c'è la mitraglietta e ancora R e vendetevi le sterre al manicomio però perfetto allora andiamoci tutto spolegniamo qua se no un casino raga non cazzo da quello che mi ha dato prima ma fammi entrare devo sparcare ma è buono ma è buono perchè così con i bottiglietti che voglio vedere perchè sono pure scemo cilini perfetto 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 scelta la mano e fammi passare oh demonio eh questa schiena è della season 1 però io non gioco dalla season 1 io gioco dalla season 1 io gioco dalla season 1 capter 2 lo gioco da qua eh dai eh dai questi sordi pippi cosa mi dai di me madonna raga quante R verdi sto trovando ditemi voi quante R verdi sto trovando no ditemelo è il dimenticatore antico di cena oh ha scorto vivido raga zero kg ancora per bombare lo riuscente ah raga se eh eh stesse vado se queste challenge vi piacciono scrivetemi nei commenti se le volete ancora se volete che le porto ancora ecco oh fama oh non lo voglio non lo voglio fa chifo mi fa chifo a me il fama a me il fama mi fa chifo 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 mi fa chifo mi dico che c'è una cassa puscia c'è scritto la puscia eh dai eh e dame qua ah mi dico che c'è sotto che me lo prende ho scelto ho scelto ho scelto ho scelto oh 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 ah 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 ragazzi Ciao è un massimo che sto soffrendo un mare ma stavo girando intorno a me stesso perfetto perfetto guarda non lo sapevo raga non c'è nessuno al mondo ma dai tanto la sempre parte tra 6 5, 4, 3 2 1 buon anno buon 2021 e con un bel vaffanculo ho un tacchio bianco faccio paura a tutti anche a quelli con lo spazio che è caldo porca puttana ragazzi sentite caldo ve l'ho detto aspetta tra l'altro nella mia stanza non c'è un condizionatore non c'è un condizionatore la finestra è aperta da stamattina praticamente è detto te ne ho 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 detto ma c'è schienkana in la mia madonna papà ha perduto la porta di bo non è più difficile anche se non c'è ma non c'è se non c'è se non c'è c'è un problema che volevo dire che la mia madre è sparata sparata con un lanciarazzi che sbatta con una fortuna distrugge dai eh che se 0 kg possono andarsi a farti fottere possono andarsi a farsi fottere se 0 kg grazie ragazzi secondo me o la speriamo bombare la 100 cioè bombare la 100 secondo me non supera il limite perché non stiamo trovando nessuno no cretino pure io che non vado nei corsi affollati specchio specchio in me sei tu brutta zoccola oh no in quella casa si trovano qua ci sono tutti ragazzi lascio un bot di loot la c'è un sacco di loot ma spero che ci sia qua ma ma eh wow ciao che bello ma 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 no bastardo ma 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 proprio ma ma dai ma 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 si ma ma che cazzo non lo so se solo aveva avuto un assalto un assalto una kille che si poteva venire con la carbasso che ci è venuta proprio col carbasso che brutto qui c'è un tattico che bello se sono finito buono il tattico buono il tattico dai dai e sto a 6 0 kg qua già di una persona madonna perchè sono andata a molly potevo andare a pantano a volte mi sbatterei la faccia ahhh mi crimina raga questa kille è nostra ma se ti vede ti faccio un c**o quanto in una casa raga vado no ahhh questi stanni che raga 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 ma che devo fa no 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 madonna e fatti raga fado un piacere no 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 vabbè dai raga vince come minchia si chiama sempre centro direi di tornare alla lobby e dire finalmente che siamo nelle fasi finali del video raga anzi più tardi uscirò un video caricato ieri uscirò un video raga con la nuova skin la di oggi con sempre centro e direi che la sfida la vince la vince sempre centro la vince proprio lei raga la signorina sempre centro con i suoi colpi il bar in testa dimostra di avere di essere portata per questi combattimenti e prende per sfigata alla signorina bombarola lucente bombarola lucente che 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 devi dire nei suoi commenti ma è presto è stato una battaglia inutile a capire con lo spazio vabbè ciao sempre centro cosa hai tu da dire ma è presto la prossima volta signorina lì bella si dà e la mia cosa io va per cui vabbè ok abbiamo capito non abbiamo capito ok raga l'ipino si conclude a qua lasciate like iscrivetevi lasciate commenti e noi ci vediamo più tardi con il nuovo video e ciao raga